Cari ascoltatori, le condizioni meteorologiche per oggi mostrano una situazione in evoluzione su diverse regioni. Un marcato in stabilità caratterizzerà il quadro atmosferico per gran parte della giornata, con precipitazioni e fenomeni temporaleschi che nel pomeriggio si estenderanno anche ad ampie zone del nord-est. Entro la serata, Toscana e Sardegna potranno attendersi a loro volta delle precipitazioni. Tuttavia è importante sottolineare che, nonostante l'aumento della copertura nuvolosa, in particolar modo sui settori del basso tirreno, in altre aree del paese il tempo si manterrà stabile e soleggiato. Desidero inoltre anticipare che queste condizioni rappresentano solo un preludio a una più marcata perturbazione che interesserà il nostro territorio all'inizio della prossima settimana, con il vortice Poppea che promette di avere effetti significativi sull'intero paese. Continueremo a monitorare la situazione e vi forniremo aggiornamenti dettagliati nei prossimi bollettini. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perderti le prossime notizie sul meteo. Noi ci sentiamo domani mattina per nuovi aggiornamenti.